Punti importantissimi soprattutto per il morale di un Avellino in netta ripresa. Buonasera innanzitutto, certamente tre punti molto fondamentali, speriamo di continuare così. La prima tripletta, sono molto felice, però ormai è passato questa giornata, pensiamo alla prossima. È stato un avvio abbastanza difficile col Bari che aveva messo sotto, poi dal gol vi siete sbloccati e ci avete creduto subito. Sì, sì, diciamo che siamo stati un po' chiusi, però poi è arrivato quel gol fortunatamente e poi la partita è andata a nostro favore. L'hai rubato qualcuno il primo gol? Sì, sì, a Panariello. Ti ha detto qualcosa? No, ha detto meglio perché faccio l'attaccante e mi devo sbloccare e così è stato, poi è andato a fare altri due gol.